We're the f***ing animal Trovevamo mi sembra un diario, non mi ricordo, una moneta molto importante E dei pirati che conoscevano il vecchietto e Drake Praticamente li hanno catturati, li hanno sparati Mi sembra, non mi ricordo Sì, li hanno sparati però mi sembra che non moriranno Perché sennò sarebbe finito là il gioco E quindi ora vedremo cosa succede Quindi baba alle ciance e incominciamo Ah, ok, 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 ci sanno, ci sanno Ecco, perfetto, incominciamo non bene ma benissimo Quindi lui sta scappando dalle Ok, dobbiamo scappare via Ok, vediamo qua Oh, oh, oh Ok, dove dobbiamo andare? Vediamo un poco Fammi capire, fammi capire Ah, ok, qui Che mira di merda che ho comunque Ok, ah, così si prendeva il munizio, mi ricordavo più Scusa, ma lui dove andate scappare? Ma lui è scappato l'altro È morto Uh, l'H-47 Finalmente Ah, ok, questi si chiamano gli armi Perfetto, l'H-47 Di qua si doveva andare qua sopra Però vedo già qualcuno Che è morto No, non è morto ancora Ok Più 12 munizioni Pensavo che era Sera che si era fatta Che si era fatta rapire Oh, oh, oh Uno è morto Dai, scendiamo Ok Ok Ok, piano piano Ok, dai Le munizioni non E cadi giù Ah, no Però non cadono giù Peccato Ah boh, non lo devi chiedere a me Ovviamente se la grafica è così Ragazzi, perché questo è un gioco vecchio Che voglio riportare Dopo anni e anni e anni Di storia Ok, è arrivato in questo momento Ragazzi, io mi ricordavo che era un maicello Che non bisogna scendere qua giù Oppure sì, no? Boh Mi ricordavo che qua bisognava fare qualche cosa Però vediamo prima là sopra Cosa c'è da fare là sopra Vediamo un po' C'è da sparare Perfetto Ti pensi che non ti avevo visto Scemo Oh no Bisogna arrivare là sopra Là bisogna arrivare Però non saprei come fare Ok Bisogna Ah, forse Perché non sale da qua Ah, è vero che bisogna eseguire le luci Ok, ma non è tanto difficile Perfetto Oh là 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 Fanno un po' Ok Basta, è morto Gianverri Non ti preoccupare Non ci bisogna di scaricare Un caricatore intero Per lui Oh Come lo devo buttare Invece no Bisogna fare così E ho Perché mi fa vendere? Granata 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 Perfetto Perfetto Ok Ok ragazzi Non so Minima Ok Siamo usciti da qualche parte Da qua Sperando che No Non ci stai Nessuno Perché se no No mi rompo Le scatolette Le scatolette Del tonno Ma che cacchio stanno Oh oh Dove cacchio stanno? Ah eccolo Mamma mia Che Che serial killer Che sono Di qua dove? Scego io a te? Oh qua c'è una macchina Ah sarebbe la sua macchina Perfetto Dai E' così popolare Evidentemente attracco la feccia tra l'umanità Senza offesa Hai buona memoria? Sì perché? Un K2640 Sentito? Un K2640 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 Guardiamo più da vicino Speriamo di essere i primi arrivati Scopriremo le rovine di una colonia percuta e troveremo una fortuna in oro spagnolo? O l'isola ha custodito per noi i segreti più misteriosi? Serve a non fargli cambiare canale Cosa diavolo era? Che ne sono la contraele? Questa non è una bella cosa! Oh cavolo! Andiamo a poco! E basta con quella telecamera! Buttiamoci giù! Buttarci giù? Ma questo caso hai per accaduti? Forse è il momento di atturarlo Chià? Spero che funzioni non ancora Lo scopriremo tra poco Ti sei mai lanciato prima? Accetto! Devi solo saltare! Ah beh Sono un po' impegnata al momento Vai! Ci si vede a terra! Sono già lì! Sì, ok! Ok, impara la duda e funziona Ok, impara la duda e funziona Che sarà mai Oh cavolo! 3, 4, 5! Ahahah! Ah, poca! Tantissima! Ahahah! Di simpatica e divertente Oh merda! Sei lo scoperto che cercano di uccidermi La mappa che rimane su un aereo infiale Elena dispersa Davvero un ottimo inizio Nate Ok ragazzi Sono spiacente dirvi Che questo video Durerà molto poco Perché il video finisce qua Perché voglio vedere Se la serie vi piace Ancora Quindi lasciate 3 ma 3 mi piace Per continuare la serie Su Uncharted Drake Fortune Mi dispiace quindi siamo arrivati Nella isola del Dorado Quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre spollisciate commentate e iscrivetevi al canale Se non l'avete fatta e ottenete la campanellina Per ricevere tutte le notifiche Quindi da giocare un tutto Ciao ragazzi Mi raccomando lasciate 3 mi piace Grazie a tutti Grazie a tutti